Buonasera a tutti, sono Luca Porelli, bartender di Materica, vi invito numerosi a partecipare al grande evento di venerdì sera delle cantine Merisale, il 50esimo anniversario della doc del Verdicchio di Materica. Vi faremo assaggiare queste tre magnifiche bollicine di loro produzione dove io una per una miscelerò ad arte un cocktail per voi, non potete assolutamente mancare, ciao! Yes, spumante dolce della cantina Merisale, con questo ho creato Cranberry Fitz, una delizia per il palato, venite a provare! Cuvè Nadir, spumante brutto della cantina Merisale, con questo ho creato Passion Nadir, un cocktail ideale per qualsiasi ora della giornata, pubblico femminile o maschile e anche gay, ciao! L'ultimo cocktail che vi proporrò sarà Orange Rosè, la particolarità di questo cocktail è perché è fatto con questo meraviglioso spumante brut, metodo Charmat della cantina Merisale, questa è una chicca che non potete assolutamente non assaggiare, ciao!